gente venite a comprare l'acqua miracolosa che cosa tiene quest'acqua no niente è l'acqua con cui la modella nostra ci si è fatto il bagno sta ancora finendo di lavarsi venite a comprare ogni boccaccio ve lo faccio alla cifra misurata c'è poco abbastanza sostenibile di 30 euro al barattolo meno pagheresse tendere un poco di acqua sporca la mia modella guardatela qua guardate che bellezza lei è la nostra super modella dice guarda che tu sei sostituibile ci abbiamo molte persone meglio di te che stanno facendo la fame dai micia facci vedere ma tu sei così sei famoso sei cosa tu che sei nessuno ti conosce ancora di qualche cosa al nostro caro pubblico micia ma stai ancora ascoltando micia guarda che te veramente ti sostituisca ti salutiamo